La nostra forza è che ti siamo sempre più vicini, da veri amici. Banca Montepruno Credito Cooperativo, la tua banca amica. A Roscigno, San Tarsenio, Teggiano, Sala Consilina, Piaggine, Laurino, Rofrano, Marsico Nuovo e ora anche a Villa D'Agri. Per darti ottimi servizi a due passi da casa. A Sala Consilina siamo aperti anche il sabato dalle 9 alle 13. Informati sui tanti servizi a tuo vantaggio su www.bccmontepruno.it Banca Montepruno, differente per forza.